Mentre Damasco si prepara a liberare Idlib e la sua provincia nel nord-ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza ribelli, la Russia resta aperta al dialogo. Abbiamo incontrato uno degli attori politici della regione, il premier libanese Saad Hariri. Le forze di opposizione in Siria hanno capitolato, resta soltanto la roccaforte di Idlib, sulla quale plana la minaccia di un attacco che significherebbe la fine della guerra. Cosa rappresenterebbe questo risultato per il Libano? Credo che la Russia raggiungerebbe così il punto e il pieno controllo della Siria, quindi noi ci rapporteremmo con i russi. Come sono le sue relazioni con la Russia? Perfette, un ottimo rapporto con la Russia. Ho un buon rapporto col presidente Putin, che rispetto molto, e credo sia qualcuno con cui poter lavorare. Non pensa di dover fare i conti con Bashar al-Assad? Preferirei trattare col presidente Putin. Il 48enne Hariri, che ha saputo dribblare situazioni geopolitiche complesse, resta in sella al governo del Libano, pur non disponendo di una schiacciante forza parlamentare. La sfida dell'unità del paese è ancora tutta da giocare. Saad al-Hariri ci ha inoltre parlato delle cause delle sue dimissioni l'anno scorso, cosa che produsse un terremoto nella regione. L'intenzione era provocare uno shock, smuovere le cose in Libano. E pensa di avere ottenuto questo risultato. Le cose sembrano essere di nuovo in movimento. Ha ancora bisogno di formare quel governo che possa lavorare sodo, proprio per poter attuare le riforme di cui il Libano ha estremo bisogno.